Il liceo Nolfi di Fano affronta il momento critico dovuto alle notte vicende sulla inagibilità della Rex Carducci mettendo sul piatto opposto della bilancia l'intelletto alzando il livello della proposta formativa risorgendo come una fenice dando il via da quest'anno proprio dalle aule che sono state oggetto della ristrutturazione della provincia ad un percorso di biologia con curvatura biomedica al quale hanno aderito volontariamente 29 studenti del terzo anno. Prevede l'avvio già da qualche giorno, è già iniziato, di un percorso destinato ai licei classici e scientifici italiani, nel nostro caso il liceo classico, ve ne sono due nella provincia di Pesaro che consiste in una curvatura dell'indirizzo classico di tipo biomedico. Si tratta di un percorso che è finalizzato eminentemente a studenti che intenderanno proseguire gli studi in ambito sanitario, medico sanitario. Di fatto la cosa consiste in un protocollo con l'ordine dei medici provinciali, si potenziano le discipline di biologia, di scienze, alcune ore vengono svolte presso strutture sanitarie che varranno per gli studenti anche come forma di alternanza scuola-lavoro. Altre ore medici della provincia vengono a svolgerle qui, in questo contesto, nel nostro istituto. Gli docenti di scienze aumentano il monteore specifico e questo, ecco, nelle intenzioni ministeriali vorrebbe costituire appunto per gli studenti un'opportunità in più formativa con quello scopo. Ecco, spesso tantissimi studenti che escono dalle superiori, che vanno all'università e che tentano il test in medicina provengono da formazioni scolastiche come quella dello scientifico e del classico. Beh, certamente il liceo ha in sé questa vocazione di essere un luogo di formazione integrale del metodo, dell'attitudine intellettuale e questo metodo, questa attitudine poi naturalmente si riverbera in maniera significativa sulle capacità anche di ingresso presso i profili universitari. Tengo a dire che questo corso dunque ha anche questa dimensione parte sia perché il progetto è stato riconosciuto dal Ministero come valido quello che abbiamo presentato e di questo va dato atto anche a chi l'ha redatto, cioè ai professoresse Marchionni, Omiccioli e Ambrosini che vi hanno lavorato molto.